Open Day del volontariato domenica 28 settembre per sottolineare l'impegno di 500.000 persone che regalano tempo e competenze a chi ne ha bisogno. Articolate in circa 3.000 associazioni, la maggior parte delle quali si occupa di necessità in campo sociosanitario. Ha partecipato tutto il territorio piemontese, numerose le iniziative nelle varie province con incontri e dimostrazioni nelle sede delle associazioni. E alle ore 12 il Flash Mob viene anche tu vestito di blu, ad Assi, Torino, Cuneo e Pino Torinese. Andare via, dividi il compagnatico, raddoppia l'allegria, aggiungi un posto a tavola, è così, è così, così sia. A Novara la giornata si svolgerà sabato 4 ottobre.